Quale starter compreso tra il 15 ed il 20 converrà acquistare? Tra essi chi sarà il leader che performerà meglio grazie al deck che avrà supporto? E nell'evento che si terrà fra poche settimane, quale sarà la prima scelta per avere la possibilità di dire la propria nel torneo organizzato ad hoc? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Il 25 ottobre è oramai alle porte, manca meno di un mese prima che i sei starter deck dal quindicesimo al ventesimo arriveranno apportando novità alle dinamiche del gioco del TCG della Bandai. Per celebrare il loro arrivo quindi la casa madre ha organizzato una serie di eventi che partiranno proprio dal 25 ottobre e termineranno il 15 di novembre che vedranno proprio i sei protagonisti. Un po' sulla falsa riga del super pre-release che ha visto quei leader lì in cima apparire ancora prima del rilascio ufficiale del gioco. In questa serie di sfide saranno presenti anche dei premi di partecipazione come uno dei sei poster playmate a tema che personalmente avrei realizzato in materiale sintetico e gomma come se fossero dei tappetini in tutto e per tutto utilizzabili ancora ed ancora ma va bene comunque così. Un pacchetto di partecipazione dove dentro ci sarà una delle sei carte, cinque delle quali abbiamo visto nei set passati con l'unica eccezione fatta per lo Zoro Banish promo numero 45 e per il vincitore un secondo pacchetto con sempre una delle sei carte con finitura silver foil e uno storage box che riprenderà la livrea dell'intero evento. Tutto molto bello ma ora una domanda potrebbe sorgere spontanea. Ok Arconte ma quali dei sei mazzi mi converrà acquistare per avere maggiori possibilità di vittoria? Nel video di oggi scopriremo attraverso una classifica partendo dal sesto arrivando al primo quale leader risulterà sulla carta il più performante una volta liberato dalla scatola che lo contiene? Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia le prime armi o un amatore questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In colleziono da zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca colleziono da zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i mazzi più performanti tra i sei disponibili da utilizzare nell'evento deck limited battle del TCG di One Piece. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal sesto che vede purtroppo Smoker essere il fanalino di coda. Tra i sei infatti è quello che non riuscirà a performare come dovrà. La presenza di Tassigi ed Ina forniranno sì quella marcia in più che serve ma essendo presenti in duplice copia entrambe la possibilità di pescarle risulterà molto più bassa di quanto ci si aspetti. Tutto il resto si presenterà bene ma sul campo di battaglia ci si dovrà scontrare contro leader che con questi starter hanno davvero fatto un salto di qualità. Quinto posto per Katakuri. Qui il sistema orbiterà come sempre attorno al sistemarsi vite e utilizzare sia la controparte del leader a costo 5 e la mamma a costo 6 per stressare le difese rivali. Con il supporto di Daifuku, Smuti e Pecoms inoltre magari potenziati da un Thunderbolt potrete impensierire chi vi giocherà contro ma attenzione alle ripartenze avversarie che se riusciranno a prendervi in contropiede vi creeranno dei problemi non da poco che nella maggior parte dei casi potranno portarvi anche alla sconfitta. Quarto posto per Barba Bianca. Papà già che partirà dall'alto dei suoi 6.000 punti di forza vi garantirà almeno nelle fasi iniziali del match di tirare il fiato. Ovviamente il suo effetto andrà contro la dinamica comune del gioco ma con carte nel mazzo come Yosu, Touch e Marco Blocker avrete maggiori possibilità di resistere agli assalti rivali. In più se utilizzerete l'event nel momento giusto l'avere quella vita in più potrà giocarvi di certo a favore. Utilizzando in campo anche il Barba a costo 7 e l'ace inoltre inizierete a falcidiare ogni forma di vita rivale sul terreno rendendovi pericolosi quel che basterà facendo barcollare le difese avversarie. Deck che non reputo il più forte ma di sicuro potrà dire la sua. Gradino più basso del podio Peruta. Quello della cantante sarà il tripudio delle carte promo. E che promo? Questo deck baserà principalmente la sua strategia sull'utilizzo massiccio di event che favoriranno le risorse che impiegherete in battaglia o andranno a disturbare le manovre avversarie. Un mazzo che personalmente vedo più solido soprattutto nel mid late game dove carte come il Luffy costo 8 e lo Shanks costo 9 andranno a dire pesantemente la loro. Ho piazzato Uta al terzo posto per un semplice motivo. In questa versione da starter si andrà a denaturalizzare la vera essenza della superstar che è prettamente zoo mentre qui ci sarà un'impronta più mid range che la farà da padrone. Medaglia d'argento per Luffy viola. Il capitano più celebre manterrà principalmente la sua vocazione da ramp e grazie alla sua controparte costo 7 vi permetterà di far scendere in campo forze nuove a costo 0. Se giocato in sinergia con Brooke ad esempio la situazione difensiva rivale si farà più fragile. Con Zoro andrete a sterciare, con Sanji pescherete una carta all'evenienza e con Jimber girerete muri tra le vostre vite e gli attacchi rivali. Insomma tra tutti e sei quasi alla pari con il primo che vedremo fra poco ma che per esclusione sono certo avrete capito di chi si tratta se la potrà giocare tranquillamente per il primo posto. Vi basterà regolare per bene ogni mossa sia del mazzo che del leader stesso e le chance di portarsi a casa il primo premio aumenteranno e non poco. Ed infine la prima scelta sarà rappresentata da Duffy. Il mazzo total blu che ha un leader risalente addirittura a Romance Down, il primo set del gioco, tornerà a dettare legge in un meta in costante mutamento. Il suo sarà un mazzo che si sposerà perfettamente con l'effetto che innescherà ogni volta che partirà all'attacco e carte come la sua versione blocker costo 3, boa, kuma e buggy, di certo vi daranno una mano a settare ogni singola giocata nel migliore dei modi. Con l'ausilio anche di draft costo 4 e tutto il reparto di attacco a seguire, che potrà essere richiamato in gioco attraverso abilità esterne, vi ritroverete a gestire un esercito di signori del mare pronti per dare battaglia senza lasciare prigionieri. Quindi ricapitolando al sesto posto troviamo Smoker, seguito al quinto da Katakuri, quarto per Barba Bianca, terzo posto per Uta, secondo Luffy e primo Doffy. Questa è ovviamente una classifica dei mazzi che reputo personalmente dal peggiore al migliore, ma la classifica non dovrà naturalmente farvi demordere dal voler provare un leader che non si trova nei piani alti della tier in questione. Nel TCG di One Piece si sono visti più di una volta mazzi che non avevano speranze contrastare e battere colossi del momento. Spetterà quindi come sempre a voi l'ultima parola vestendo i panni di colui o colei che più si adatterà al vostro stile di gioco. Coraggio quindi aspiranti re dei pirati, vento in poppa e levate l'ancora, il deck limited battle sta per arrivare. E voi quale leader sceglierete per dare fuoco alle polveri? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento, prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei DCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.